Salve, avete una stanza libera? Mi dispiace, siamo al completo. La prego, sono molto stanco, ho bisogno di dormire. Mi accontento anche di condividere il letto. Guardi, se proprio insiste, può andare a dormire con mia suocera. Va bene. Come ha passato la notte? Bene, ma sua suocera è stata un po' freddina. Sì, lo so, la seppelliamo oggi pomeriggio.